Un saluto a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo video vi mostrerò uno dei possibili metodi per giocare e divertirsi con il parziale finale. Preciso, non è un metodo che mi indicherà con quale parziale finale finirà una partita, ma è un metodo che potrà portarci a vincere qualcosa. Ma prima di iniziare con la descrizione del metodo del gioco, vi mostrerò tutte le possibili combinazioni in un parziale finale, che potete vedere in questa tabella con su accanto la descrizione del singolo parziale finale. In pratica questa è una scommessa combinata tra i segni 1, x e 2 del finale primo tempo e i segni 1, x e 2 del finale dell'intera partita. Naturalmente, come potete vedere, è composta da nuove combinazioni. Ma andiamo sul nostro sito di scommessa. Vado su sport e seleziono un campionato qualsiasi. In questo caso ho selezionato la serie A italiana. Sui siti di scommesse, oltre alle combinazioni secche dei parziali finale, che sono praticamente rappresentate da queste nuove combinazioni, ci danno la possibilità di giocarla anche in fissa primo tempo e doppia chance al secondo tempo, oppure doppia chance al primo tempo e fissa sul finale. Ma ancora meglio ci danno la possibilità di giocarla in doppia chance al primo tempo e doppia chance al secondo tempo. Noi giocheremo il nostro parziale finale in questa modalità, dunque doppia chance primo tempo, doppia chance secondo tempo. Il vantaggio che ci dà è che in una singola giocata abbiamo quattro combinazioni giocate. Il mio suggerimento è quello di giocare ogni singola partita con due possibilità di giocate di parziale finale, che vi rappresento in questa tabella. In pratica ho creato tre opzioni. 1 se puntiamo sul parziale finale 1-1, dunque 1 primo tempo 1 finale. La seconda se puntiamo sul parziale finale 2 primo tempo 2 finale. E la terza se abbiamo una partita abbastanza equilibrata potremo puntare sul x primo tempo x finale. Le mie tre opzioni di giocate sono queste. La prima, sull'1 primo tempo 1 finale, io seleziono in pratica due giocate. 1-2 primo tempo 1 x finale. 1 x primo tempo 1 2 finale. Queste due combinazioni mi va a coprire in pratica sette delle nuove combinazioni possibili. Mentre solo l'1 primo tempo 1 finale viene giocato in tutte e due le combinazioni. Come possiamo vedere l'1 primo tempo 1 finale, 1 primo tempo 1 finale. Stesso discorso vale per la seconda opzione, per il 2 parziale 2 finale. Io giocherò 1-2 primo tempo x2 finale, x2 primo tempo 1-2 finale. Infatti nelle due combinazioni abbiamo 2 primo tempo 2 finale, 2 primo tempo 2 finale. Nella terza opzione abbiamo che andiamo a giocare x2 primo tempo 1 x finale, 1 x primo tempo x2 finale. Naturalmente abbiamo nelle due combinazioni x primo tempo x finale, nell'altra combinazione x primo tempo x finale. Tutte e tre queste opzioni mi coprono delle nuove combinazioni soltanto 7. Naturalmente nella prima perderò la scommessa se uscirà x primo tempo x finale, 2 primo tempo 2 finale. Nella seconda perderò se uscirà 1 primo tempo 1 finale, x primo tempo x finale. Nella terza perderò se come risultato uscirà 1 primo tempo 1 finale e 2 primo tempo 2 finale. Ma mettiamo in pratica queste giocate sul nostro sito. Giusto per il nostro esempio ho selezionato il campionato italiano di serie A. Sono andato a cliccare sulla giocata di parziale finale in doppia chance primo tempo, doppia chance finale e mi vado a selezionare le mie favorite. Sulla favorita in casa, sulla favorita fuori casa oppure scegliere una partita equilibrata e puntare sull'x primo tempo x finale. Giusto per sviluppare il nostro esempio io andrò a selezionare 6 partite. Dunque vado, punto sulla Lazio, dunque e gioco 1x 1 2, 1 2, 1 x. Poi vado sull'Inter, x2 primo tempo 1 2 finale e 1 2 primo tempo x2 finale. Poi vado sulla Roma, x2 1 2, 1 2 x 2. Poi sul Cagliari, 1 x 1 2 e 1 2 1 x. Poi vado sul Parma, 1 x 1 2, 1 2 e 1 x. Infine sulla Fiorentina, x2 1 2, 1 2 x 2. Ho in pratico selezionato 6 partite mettendo una doppia su ogni singola partita. In questo modo ho generato un sistema 6 partite a 64 colonne. Io le andrò a giocare da 5 centesimi a colonna per un totale di 3,20€. Naturalmente se usciranno, come speriamo, l'1 1 parziale finale per le squadre favorite in casa e 2 2 parziale finale per le squadre favorite fuori casa, io andrò a vincere, praticamente andrò a chiudere tutte e 64 nelle combinazioni e andrò a vincere 169€. Se invece questo non accade, nella peggiore delle ipotesi vado a chiudere solo una colonna, potrò andare a vincere da 1 euro e 4 centesimi fino a 5,90€. Se usciranno una o più risultati con 1 1 parziale finale o 2 2 parziale finale, andrò a chiudere più colonne, dunque la mia vincita sarà in proporzione al numero di colonne che andrò a chiudere. Credo che questo metodo sia abbastanza valido, perché ci dà la possibilità di restare in gioco, pur non prendendo il parziale finale che ci eravamo prefissati. Consideriamo il fatto che ogni partita è coperta al 77%, perché solo due combinazioni su 9 sono perdenti. Questo ci dà ottime possibilità di riuscire a vincere. Bene, con questo è tutto. Spero che questo metodo vi sia piaciuto. Potete iscrivervi al mio canale, lasciare un mi piace e condividerlo con gli amici. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!